Quasi ultimati i lavori in piazza Brusaca a San Terenzo ma proprio in attesa anche del termine possiamo già dire Sindaco che questa piazza sia stata restituita ai cittadini che già la stanno vivendo. Sì è vero, diciamo che i lavori non sono ultimati, mancano ancora piccole ultime interventi però il cantiere è stato e la piazza è stata consegnata. Io più che aver riconsegnato una piazza ai San Terenzini io penso che abbiamo riconsegnato un paese ai San Terenzini perché oggi insomma queste facciate con i loro colori prima non erano visibili, i colori del cielo che si godono stando seduti qui magari al ristorante oppure sulle panchine o su uno di questi muretti sono fantastici, i colori di San Terenzo insomma sono leggenda quasi e vedere alla sera il cielo che cambia di colore o vedere il castello da qualche altra prospettiva era cosa che c'era negata da tempo, oggi ce la possiamo godere. Oggi abbiamo veramente restituito quello che era il paese di un tempo, quello che si vede nelle antiche fotografie. I gelsi faranno presto ad avere chiome sufficienti per dare ombra, le proporzioni della piazza sono mi sembra adeguate, un'area libera e un'area invece dedicata alle barche alle quali vanno a sommarsi ricordo le 38 barche che sono a Mugiano quindi insomma abbiamo veramente completato a 360 gradi quelli che erano gli impegni presi con il nostro programma elettorale per San Terenzo. I cambiamenti possono sempre fare un po' paura, nelle grandi città ha maggior ragione nei paesi. Come avete elaborato la scelta di questo progetto? La scelta del progetto è nata parlando e lavorando con due bravissimi architetti santerenzini. Abbiamo quindi immaginato quelle che erano le necessità e quello che ci chiedevano i cittadini, avere più spazio per loro, avere la possibilità di poter godere di una zona d'ombra che a San Terenzo era diventata ormai inesistente perché all'ombra c'erano le barche, la passeggiata è molto soleggiata, quindi abbiamo pensato ai cittadini, abbiamo pensato a tenere il più alto numero di barche in zona, pur dando spazio anche alla vivibilità della piazza e anche alla possibilità di fare eventi. Diceva che mancava pochissimo alla fine dei lavori, c'è già una data più o meno per quando è prevista l'ultima azione? Sì, sono ancora qualche settimana, stanno arrivando i materiali e poi abbiamo chiuso e inaugureremo la nuova marina che poi verrà associata la prossima estate alla riapertura della spiaggia della Marinella che oggi stiamo assegnando in questi giorni i lavori avendo chiuso la gara. Grazie a tutti.